un pochino anche per capire da quello che avete capito se non ho comunicato bene mi serve quindi cos'è la cosa di esovarti che un'azienda che si chiama Fili che produce l'illuminazione ha inventato una lampadina che si comanda tramite un wifi tramite un app chi vuole detto chi se ne prende la città la spiego con l'interruttore no perché in realtà la lampadina ha un concetto turistico il fatto che possa questa lampadina all'interno oltre a un recetto turistico ho impiegato una lampadina che ha sull'interno 60 led che cambiano colore e quindi generano fino a 10.000 sfumatori in modo diverso è di grigio sarà risparmio di argenti a parte quella che la lampadina è 5 watt di consumo quindi è sicuramente non è questo il suo plus il suo plus è ti crea una atmosfera migliore stella